Buongiorno, chi ben incomincia è già a metà dell'opera, oggi abbiamo un po' di opera. Alla linea 10-11 noi troviamo i due testi paralleli, addirittura a fotocopia, del testo Matteano del Padre Nostro e del testo della Didache. Luca questa espressione non ce l'ha. Perché non ce l'ha? Cercheremo adesso di capire. Il testo è fatto da un genezeto, un passivo, sia fatta, tossele ma su, la volontà di te, noi in italiano diciamo la tua volontà, os, come, cai e anche. In cielo e sulla terra e pighe e sopra. Noi dobbiamo fare i conti con questa espressione e dobbiamo cercare di capirla al di là dei nostri preconcetti o precomprensioni. Di solito, quando si cita questa espressione, in automatico, forse anche per l'educazione che abbiamo ricevuto, noi sentiamo dentro di noi, io devo fare la sua volontà. Beh, se l'autore sacro avesse voluto dire questo, avrebbe scritto aiutaci a fare la tua volontà, invece sia fatta la tua volontà è un'altra cosa. Perché è un'altra cosa? Perché è un passivo teologico. E quindi la volontà la deve fare lui, non noi. Sia fatta la tua volontà da te. Questo è il dato su cui noi dobbiamo confrontarci. Perciò ci chiederemo che cosa significa che lui faccia la sua volontà, dal momento che non siamo noi a fare la sua volontà. Poi ci accorgeremo che dentro a questa logica, quando noi chiediamo a lui che lui faccia la sua volontà, è chiaro che lui farà la sua volontà nella storia dove, guarda caso, ci siamo dentro anche noi. Però dobbiamo partire con chiarezza. Noi chiediamo che lui compia la sua volontà. Il secondo dato su cui bisognerà misurarsi, ma non è molto difficile. Non è molto difficile. Non dico che bastano queste piccole annotazioni di tipo filologico. Però siamo vicini. Quando noi sentiamo la parola cielo-terra, immediatamente, vista l'epoca in cui è scritto il testo, e cioè verso gli anni Ottanta d.C., siamo tentati di mettere in parallelo questa espressione con i concetti medio-platonici dell'epoca. e quindi fare del cielo il modello e la terra il tentativo di riprodurre quel modello. se c'è un sistema di pensiero che gli ebrei non accettano tanto volentieri è proprio il platonismo. Il motivo è molto semplice. Tutti quanti ricorderete che poco prima del 164 a.C. viene pubblicato un libro chiamato Libro di Daniele, dove si dice con chiarezza che i giusti, cioè coloro che sono rimasti fedeli alla fede dei padri durante la persecuzione di Antioco IV Epifane, si sarebbero risvegliati dalla polvere, sarebbero risorti. Ora noi sappiamo che la risurrezione non è la risurrezione dell'anima. dell'anima si dice sempre che è immortale. Non muore mai. È il corpo casomai che risorge. Ora questa concezione della risurrezione che nel mondo ebraico è ben chiara dalla metà del secondo secolo a.C. non può accordarsi con nessuna dottrina platonica o medio-platonica. perché nel mondo del pensiero di Platone il corpo è prigione dello spirito e quindi la vera vita viene vissuta dall'uomo quando l'uomo è liberato dal corpo. Per questo motivo mettere in parallelo questa espressione con il medio-platonismo è un assurdo culturale. e allora che significato ha? La prima cosa che noi possiamo capire è che si tratta di un'espressione polare. Già conosciamo questo modo di parlare perché nel mondo ebraico per dire tutto o adoperano l'indefinito kol oppure si esprimono con i due estremi che contengono la realtà. Per quanto riguarda l'universo cielo e terra. Voi potete vedere benissimo il primo capitolo della Genesi incomincia così in principio Dio creò il cielo e la terra che vuol dire ha creato tutto il cosmo. Quindi questa espressione polare potrebbe essere un primo elemento che ci fa capire l'espressione in altre parole il testo chiederebbe che Dio compie la sua volontà ovunque in tutto ciò che è il mondo della creazione. Ma poi c'è un'altra finezza. Dove sta questa finezza? Nel secondo secolo avanti Cristo nasce un movimento culturale chiamato pensiero apocalittico. Durerà fino al secondo secolo dopo Cristo. abbiamo dunque una struttura di pensiero che è parallela alla teologia ebraica e alla teologia rabbinica ed è la teologia apocalittica. Nella teologia apocalittica c'è una specie di precomprensione. nel mondo c'è Dio e i suoi angeli e qui ci siamo noi. Tra gli angeli di Dio c'è anche uno povero che si chiama Satan e lassù qualche volta fanno degli incontri di box tra Dio e Satan ovviamente Satan è una creatura di Dio anche se ribelle e nello scontro chi prevale è ovviamente meno male in terra Dio è rappresentato dalla comunità degli uomini che gli sono fedeli coloro che perseguitano questi uomini invece rappresentano Satan da qui pensiero apocalittico deriva un concetto dice ciò che avviene è un fatto è un avvenimento ciò che avviene in cielo avviene in terra avverrà dopo avverrà in forma limitata con tutti tutte le manchevolezze tipiche della storia e tipiche dell'uomo ma le cose avvengono così che differenza c'è fra la concezione platonica o medio platonica e la concezione apocalittica la concezione medio platonica riguarda il tema del essere nel mondo iperuranico c'è il fiore perfetto nella terra ci sono tanti fiori che tentano di imitare quel modello siamo sull'ordine dell'essere quell'ordine filosofico che poi porterà alla metafisica aristotelica il mondo apocalittico invece pone il cielo come modello sul mondo del agire non dimentichiamocelo mai gli ebrei non sono mai arrivati in epoca antica alla metafisica perché a loro manca lo strumento lessicale il verbo essere non viene adoperato nelle lingue semitiche allo stesso modo con cui viene adoperato nelle lingue indoeuropee e quindi un aristotele ebreo non ci poteva essere detto questo allora cominciamo già intuire qualche cosa sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra è una visione in cui Dio essendo al di sopra di tutto e di tutti tranne al di sopra della libertà umana per quanto riguarda gli aspetti morali non altri si chiede a Dio di compiere qualche cosa come lo ha compiuto lassù si tratta di azioni non di identità di essere la terra imita il cielo sui fatti non sulle cose questa è la prima breve conclusione che possiamo fare da un esame puramente filologico adesso facciamo un passettino in avanti ci chiediamo dove sta la fonte di questa frase da momento che Luca non ce l'ha e Matteo si allora alla linea 23 avete uno schemino proviamo a dare un'occhiata a questo schemino noi stiamo scavando sulla colonna centrale Matteo 6 versetto 10b la seconda parte se voi date un'occhiata sulla destra vedete messo in grassetto le stesse parole la stessa identica costruzione queste sono le parole quelle di destra che Gesù dice nel Gezzemani si allontanò una seconda volta pregò dicendo padre mio è interessante a noi ha insegnato a dire padre nostro lui invece quando prega dice padre mio pater mu se questo calice non può passare via senza che io lo beva si compia la tua volontà i traduttori del nuovo testamento hanno fatto le due varianti nel padre nostro ammesso sia fatta la volontà tua la tua volontà e invece nel racconto della passione ammesso si compia nella lettura del testo italiano questa differenza crea una difficoltà nel mettere insieme le due frasi perché c'è la variante del verbo e quindi non viene subito in memoria che quel si compie la tua volontà possiede l'identica dicitura greca del padre nostro allora la domanda a questo punto è Matteo copia la dicitura del padre nostro dalle parole di Gesù del Gezzemani ma si può fare anche l'altra ipotesi che Matteo peschi dal padre nostro di Gesù le parole del Gezzemani perché c'è questo dubbio andiamo sulla colonna di sinistra e diceva Abba padre tutto è possibile a te allontana da me questo calice però non ciò che voglio io ma ciò che vuoi tu traduzione quasi perfetta dell'italiano rispetto al greco ma sia in greco sia in italiano questa è una frase che non si adopera mai è una costruzione molto strana mentre in aramaico e in ebraico è perfetta quindi queste parole sono un calco di un precedente testo semitico o ebraico o aramaico che riportavano le parole di Gesù nell'orto del Gezzemani ora se noi teniamo presente che Marco è il primo Vangelo pubblicato siamo verso il 65 ed è quello che contiene molti elementi che risalgono a un prototipo di lingua semitica ci viene la tentazione di dire che le parole di Gesù nel Gezzemani forse sono più rappresentate da Marco che da Matteo il quale pubblica il Vangelo vent'anni dopo con questa variante che in greco suona benissimo come anche nella traduzione italiana allora viene da concludere che le parole di Matteo messe in bocca a Gesù nel Gezzemani sono una elaborazione teologica di Matteo Marco invece sarebbe molto più storico e allora resta l'enigma Matteo fa l'elaborazione teologica delle parole di Gesù nel Gezzemani prendendole dal Padre nostro oppure avviene il contrario Matteo elabora le parole di Gesù nel Gezzemani e da lì pesca per costruire la frase del Padre nostro che in Luca non c'è e neanche in nessun altro ambito lucano esiste questo tipo di invocazione oggi sembrerebbe che la opinione più corrente sia che Matteo abbia elaborato le parole di Gesù al Gezzemani e da lì abbia copiato questa frase e l'abbia introdotta dal Padre nostro ma troverete altre opinioni minoritarie dove dicono il contrario Matteo elabora l'espressione del Padre nostro e da lì copia la stessa espressione per metterla in bocca a Gesù nell'orto del Gezzemani se noi ci fermiamo un momento per capire questa fonte noi arriviamo facendo un'esplorazione ovviamente filologica in ebraico a vedere che il concetto di volontà di Dio in ebraico non esiste esiste un altro concetto che è parallelo e forse anche più forte ed è tutto racchiuso in quella parolina ebraica che io vi ho copiato alla linea 25 si pronuncia Razon Razon vuol dire eudochia beneplacito questa parola ovviamente ha un'area di significato molto più ampia di volontà e ci aiuta forse a capire meglio il concetto di Serema nel greco neotestamentario il beneplacito di Dio è sì il progetto che Dio ha sulla storia dell'uomo Dio si serve delle libertà umane per condurre la storia dove vuole lui questo è uno dei primi concetti che sta dietro alla parola Razon greco eudochia il beneplacito di Dio Dio si serve del tuo nemico per darti una lezione e si serve del nemico del nemico per liberarti e in questo gioco stranamente tutti e tre siete liberi tu di fare il bene e fare il male l'altro di rubarti il telefonino e anche il tacquino e il terzo che fa il poliziotto di acciuffarlo tutti e tre pensano di essere completamente liberi e lo sono e quindi di fare ciò che fanno semplicemente perché lo hanno deciso loro di fatto dice il testo ebraico le cose non sono esattamente così ognuno ha una sua libertà ma la libertà è umana e quindi la libertà comunque perché umana è limitata dentro a questo limite delle singole tre libertà dei nostri tre protagonisti Dio orienta le azioni in modo tale che le azioni portino a determinati compimenti in questo cammino non è che tutto fili liscio non è che tutto sia delicato alle volte ci sono anche momenti di fatica di violenza di dolore di sofferenza però l'obiettivo viene raggiunto così pensano gli ebrei questo dunque è il primo concetto di beneplacito un secondo concetto di beneplacito noi lo dovremmo tradurre con preferenza